Un terzo delle marche è oggi ricoperto da boschi, con la superficie forestale che cresce ancora attestandosi a quota 311.000 ettari, su 937.000 totali, quasi il doppio rispetto a 50 anni fa. Ad affermarlo è un'analisi della Coldiretti, diffusa in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, sulla base e sui dati del Terzo Inventario Nazionale del Corpo Forestale dello Stato. In totale abbiamo circa 350 alberi a testa e siamo la terza regione in Italia per numero di piante rispetto alla superficie. La provincia con il maggior numero di boschi è quella di Pesaro Urbino, davanti a Macerata, Ascoli Piceno, Fermo e Ancona. Le nostre aree forestali, se valorizzate attivamente e con pratiche di gestione sostenibile, possono rappresentare un fondamentale strumento di investimento nella crescita dell'indotto produttivo ad esso collegato, garantendo così lo sviluppo socio-economico delle aree marginali, rurali e di montagna. Un obiettivo che va raggiunto con l'approvazione del nuovo testo forestale per la semplificazione della gestione attiva dei boschi, dando più valore al ruolo degli imprenditori agricoli per la qualità dell'aria e il riconoscimento dei crediti di carbonio con lo sviluppo della filiera 100% italiana, attraverso i piani di sviluppo rurale e con l'incentivazione dell'utilizzo di legno prodotto in Italia negli appalti pubblici. Ma una miglior cura di queste zone è oggi indispensabile, anche per contenere il problema del dissesto idrogeologico, come sottolinea la Col di Retti. I boschi sono un patrimonio di biodiversità, poiché ogni ettaro di macchia mediterranea è popolato in media da 400 animali, tra mammiferi, uccelli e rettili, ma anche da una grande varietà di vegetali, senza dimenticare che ricoprono un ruolo centrale come assorbitori e contenitori di anidride carbonica, che è il principale gas ad effetto serra e sono fondamentali nella mitigazione e nell'adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Grazie.